Dwight Manfredi, voglio che tu vada a Tulsa. Ma è serio? Tulsa King è una storia di un boss, che però ha una banda un po' improvvisata. La mia vera famiglia mafiosa era diversa, ma quando mi mandano nel West, ho capito che non c'erano italiani, ma incontravo solo cowboys, indiani e torri da cavalcare. Con loro dovevo fare una banda. Da ragazzo questo nome, Silvestro, era un po' fonte di presa in giro, è per questo che sei diventato un combattente in the movie. Il nome è Silvestro, era problematico. C'era allora un personaggio dei cartoni animati, Gatto Silvestro, e parlava così. Ogni volta che andavo a scuola mi prendevano in giro, quindi ho dovuto imparare a difendermi un po' per via del nome. Olso Stallone, Salio Lewis-Pleck. Infatti, lo stallone, Silvestro è lo stallone, però mi piace questa cosa. Rocky è stato un grandissimo successo, però c'è stato anche un problema di diritti. Quando ero giovane non ho realizzato, e le mie spalle hanno guadagnato miliardi di dollari, e io zero. Va bene così, però da oggi vorrei che i miei figli avessero parte dei diritti di Rocky. Sei stato alla Ferrari, nel box della Ferrari, con il nostro presidente Mattarella. Ho provato a bussare, ma le guardie del corpo mi dicevano che non si poteva entrare. Io ho un po' insistito, vorrei incontrare il presidente. È stato fantastico.